Animali e animale parte il toto voto secondo voi in questa sfida fra mates chi è che ha vinto? Scrivetelo adesso nei commenti, godetevi tutto il video poi per scoprire effettivamente chi ha vinto e buona visione Yuhuuu Yuhuuu Eeeh bambi ragazzi e ragazze sono anime bentornati in questo nuovissimo video Come potete vedere siamo a casa mates perché ormai è a casa dei mates Siamo nel secondo video di super mario party il primo è uscito sul canale di stefanino quindi andatevelo a vedere Mi piacere ragazzi oggi un po' più con calma perché ho la febbre a 39 Ma sì vabbè oggi faremo la modalità principale Io da piccolo volevo avere la febbre per stare a casa a giocare Ovviamente si può giocare direttamente dalla switch ma visto che siamo in quattro giocheremo sul televisore Quello grosso Ci sarà una penitenza per il perdente E chi vi guardi E chi vi guardi già Scusa Io sono bravo ste cose Ultimamente vai sta in paniello portaci Sì dalla modalità nuova Allora la modalità Mario Party è molto simile al gioco del loca però ovviamente si fa sul televisore Quindi in base al lancio di un dado si finisce su una postazione Si potrebbero prendere monete Perdere monete fare dei minigiochi Prendere stelle Prendere dei tunnel che ti portano a un'altra parte della mappa E poi anche rubarli agli altri Esatto Chi vince? Chi ha più stelle Chi ha più stelle Si tira il dado per decidere quanto Vediamo 3 5 No no 5 Tu inizi per primo e io secondo i punti blu danno monete i punti rossi levano monete ah puoi scegliere anche doppio tipo da duvigio o da donormale 3 1 vai vai ci sono 3 1 però c'è il 7 è lui aspetta spieghiamo sascia e luigi io sono wario io sono mario e io sono wario e io faccio il da duvigio andiamo dai dai ti è andata bene è andata benissimo oh 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 è fermo lì dai sono guarda ah però c'è a 2 0 c'è un 9 c'è a 2 0 raga eeeesh sono fatto no meno 2 rimane fermo l'ultimo spruzzo ottimo raga oh oh me avete preso come come si spara oh oh non l'avete buttato fuori si va bene oh eccolo lì questa ha capito non è questo con la fortuna vento a casa che fortuna tutte le skin ragazzi sono un never stop sono ultimo prendo ma vi frego la stella vi frego ma non c'è ancora nessuno ok calma finisci il primo turno ah prendo la prima ma quindi qua basta fare uno no ah è vero tu punti all'1 adesso ahhh 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 metti il dato wario e che me frega e shkere sta sempre per modi c'è un sacco di stanno e ho capito ma eeeh ahahah ahahah secondo i miei gioca raga vagonata di tod un po' ok poi se 17 anche io messo 17 18 però forse anche volevo scendere 17 17 perchè quindi adesso per il cadere 8 punti tutti e sto fermando e dai e i monetini in tasso ancora l'inizio rai non c'è dire ma soltanto è se tu papà che sganci soldi ma l'ha detto prestato le stelle sono una cosa importante luigino abbiammo stellino vabbè se qualcuno ha una stella si ruba e o mecca stasperare il cinquino posto solo 5 vabbè però la stella si può rubare e poi comunque la stella da un'altra parte si paga si si perdono 10 monete bello se non vincere il minigioco non ce li avevi e vabbè intanto però chi è che c'ha il stellino qua ah e mo muti voi arrabbiati una stella per gigi a sinistra perfetto quindi qua puoi scegliere una stella però puoi pure perdere le robe sarà sicuramente negati che lo sta a vedere e invece è buono ruba le monete le ruba giugno no infami la prende mai lui dopo tanto e lo fa l'inizio vai al piccolo sono sei infami la stella prende vado e torno vai vai a rubare vai vai oh eeeh no vabbè ci ho detto di prendere da giuseppe no 3-1 di fila questo qua è inizio però mi voglio in finna spero che rimanga lì guarda guarda vabbè però tu ci sei vicino eh ma cosa ho fatto il giro di là vabbè ma ci sei più vicino di tutti dai surri è il suo momento io ci credo vai io ci credo sii alleluia eh in tutto questo ora la pioggia la stella è surri adesso si dai 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 patato parte il minijoco ma tanto sono sicuro che si infile in qualche tunnel malato mini gioco cos'è via cosa via che eccolo vai 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 stai lì stai lì stai lì stai lì vai stascia no no eccomi no stascia vai più là bravo la successa ah no aspetta è così ok Ma no, ma ci siamo arrivati prima noi! Vado giù, vai sto qui, sto qui No no Giuseppe, uno è di qua, è di qua era Ok, no, dai su, spostati su Adatti, Adatti, Sascha Devi far tu Ma quanto, ma ti hai sbagliato tutto Giuseppe? Faccio, faccio No Si vabbè ce l'avevamo già sentito sul piatto d'argento Va li Ok, io vi faccio io, faccio io Faccio qua, faccio qua Vai, vai, vai Ed, lasciami un po' No, no, per che? Su, più su, vai di afari No dai Giuseppe, oh, dai Giuseppe Su, 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 di qua sei stato tu a sbagliarla in alto, non sei sceso 2? in questo caso è per 2 moni tira fuori soldi siamo comunque in basso vabbè nessun cambiamento lancio quello normale lancio raga dai dai 1 un altro 5 sei da 5 peccato sempre 5 torni a casa però no chissà che siamo dietro si fregatura doppica cos'è? cosa significa? un flash colpisci ci siamo ci siamo sono qua io raga raga colpite ci siamo? che cosa sui? ho preso sui? ho fatto i soldi c'entrano più semplice ecco lo sapete più otto va bene sempre col batti sur ma non è vero raga non posso fare sempre 1 1 1 1 2 2 ma non hai soldi neanche per pensarci a comprare la stella dove vai ahhh ecco questo è già sul verbo io devo uscire la domanda si ah lui il domandiere raga pensate osserviamo cosa devo fare io? bene era facile questa ahahahah volevo fare il più grande possibile nooo invece avevo sbagliato era per prenderla velocemente è l'ultimo guarda ma l'importante è che non pensavo ah ma se è l'ultimo basta che no 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 quanti sono? sono troppi fai il 6 qualcuno vada su 5 no no il 6 va bene era 6 o 7 i paratrupa dividete vi dirite no erano i paratrupa erano 5 3 4 5 6 6 6 l'unico che mi ha fatto perso 5 stiamo scherzando vabbè era l'ultimo rautant eh si aveva vinto lui ha vinto lui cosa? eh si no bastava che uno di voi arrivasse alla fine mi hai confuso tu andava sul 7 sul 6 perchè sei andato sul 5 perchè aveva detto dividendeli eh vabbè un po' di voletine ce li portavo a casa guarda il giuseppino eh intanto dice che vede sempre i gatti neri a Napoli guarda però è fortunato mo vediamo un po' la situa tanto faccio di nuovo uno ragazzi eh ok 4 oh oh ah 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 perchè? ah 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 sei il primo bel altro eh ma dovevo passarlo no il primo non ci passa che succede? come è il primo che ci passa? vabbè giuseppino prendi il calamaro vai vai oh il controllo rompaso aoohoo vai 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 Scriptures voi andava a prova forse ah 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 esattamente 21 2nd televisivo aahes ah 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 oh ah 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 oh ma che stfu E' un bello, vediamo. Faccio sei sicuro Tre, però ti puoi prendere l'oggettino, eh. L'oggettino non è male. Oggettino vai. Dacci sto tubo No, è buono, più 5 alla prossima. La prendi? Eh, sì, però la prendi te. Non posso prendere, hai fatto meno 2 Eh, se fai 6 la prendi Se fai 6 la prendi E' io. Elevati! E' bambino. E' bambino. Si. Ho preso 3 punti. Io gli do un pugno a giuse. Pazze di Armi Eccomi. Nooo. Siii Ultimo. E' bambino a stupugna Guarda che faccio. L'ultima foto, l'ultima foto. Sai troppo grosso Cambiamo le sorti. E' bambino. E' bambino. E' bambino. Cos'è? Io sono di spalle Io ho preso 3 punti. E' bambino. E' zio, hai detto te, sei enorme Sei gigantesco. Ho capito. Sei subituato Uta Derell che si va? Cosa deciderà il dato? Un 4 Quindi 9. Ok. Stai vedere che prendo quello che non vogliamo Te lo meriti perché, cioè Eh, ma che cavolo! Chissà chi si ruberà la stelloccia Voi a prenderla su telnino da giuseppino? Il bello è che quella se la sta rischiando perché lui adesso c'ha su 14 monete Oh, nooo E' andata bene, dai. E' l'altra isola Ha perso la stella Sfiga, oh Vabbè hai preso 6 monetini? No? No, no, ho preso la stella Ah, ok. Hai fatto l'upgrade? Si, ho capito, ma io perché ero sopra tutti e adesso c'ho 27 monete e basta Eccomi a casa mia, comando io Carmino eh ragazzi, voglio farlo rosolare bene Nooo, abbiamo andato di fuori Ancora una faccia dice, dai che hai ancora Ancora una faccia, di qua Ma non riesco a girare sulla... di qua Porca Di nooo, cioè, sai che vuole fare? Pervi le bombonesse Spero che dai che sopra i saccocciano Non so dove arriviamo questo sei, dove andiamo? Passiamo ad acqua che è negazione Eccola spendo Nooo Cosa? Nooo Non posso Come no, la prendi e la prendi? No Perché no? Perché c'è l'ultimo Perché c'è l'ultimo Cos'è l'ultimo Eh, te c'è i soldini, insegnaci Pensione, si parte Pate, ecco qua Sono ultimo, porca Inutile Io anche E ci sono venuto con zero Ho vinto, ho vinto No, ha vinto Luigi 13 monete Dove ne ha prese? Non posso arrivare l'ultimo Sto mese nei video No Becca questo De Eh, si Dele trasporto così Po Ma dai, a due passi Po un 5 Mi stai mettendo la stellina Ah, mi stai mettendo la stellina No, mi stai mettendo l'altro Se non posso perdere anche sto Stellina Stellina Ah, ultimo minigioco Un po' di monetine Fanno comodo a tutti Si, fanno comodo un po' Stanno comodo a tutti Bradello Oh, dai eh Ma che albero è un albero dove cadono tutte le frutte del mondo? Eh, si, come faccio a sapere quale manca Va bene Dai Dai Qualcosa è casca anche a me le briciole a me No Ho preso Io l'ho presa No Abbiamo vinto, abbiamo vinto Si Ma vai Ultimo, tu non è finito Oh mamma mia Che ansia Bonus minigioco Chi ha vinto più minigiochi E chi ha vinto più minigiochi E chi ha vinto più minigiochi Non io Ti prego fa che sia 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 io Si Si Secondo bonus Dinamismo Che vuol dire? Ti si è spostato più volte a tre sole Il nuovo spazio Ti prego Si E' C'hai 3 stelle Tray Chi va tu ultimo, ragazzi No. Stai quante volte avete? W Sì, non ci interessa Si 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 No Sì Embrere pure Ragazzi È l'ora della penitenza Io Estefanino E sure ils parteciperanno anche perché ci sta di la Giozef Perché io ho sentito che ha un po' di febbre ma anche un po' di fame Ah, dici? Se la torna certa direi di scegliere qualche ingrediente Sei solido, liquido, polveroso Da mixare insieme E questo lo dovrà bere Io so che contro la febbre va bene il curry Succo Lenticchie Ma come? Frulliamo tutto, dai Esce chifo Un paio di curry Un po' Oh mio, ti mi hai messo Che schifo Papone Raga, fa proprio schifo Tutto, dai No, così non vale Raga, ma non si può mangiare Ma cosa, la sua penitezza Questa come entra esce uguale Se lo bevi tutto, stasera va in bagno E' più grande e grosso E poi che schifo Allora, il capone non è male Adesso non è male Poi te lo volevo assaggiare io Non mai dà Sascha glielo beve domani a colazione A di minestra coi peli Si, si è presso i peli E va bene, bene, bello Animali di male Questo video può concludersi qua Noi ci beviamo su Ma no Mamma mia il curry è assurdo Comunque abbiamo fatto un bel intruglio Sono uscito vincitore Surry non è uscito perdente Quindi è tutto benissimo Ma non resta altro che ringraziarvi per essere arrivati come sempre Fino in fondo al video Se siete i migliori Vi potete iscrivare al centro Guardare altri miei due bellissimi video dati E noi ci siamo back ad un prossimo video Stay angry Stay animals Ciao